Lei non mi deve urlare, chieda scusa alla famiglia di Mussolini, lei ha chiesto un incontro privato, lei ha chiesto un incontro privato, lascialo stare, andiamo, lei non ha chiesto scusa, tanto non importa, adesso andrete al governo, fate quello di voi, ci andrete voi, ci andrà lei, ci andrà lei. Non siete rovinati con questo povero sindaco, poveretti voi, poveri voi, poveri voi.